I materiali. In questo video parleremo dei materiali, vedremo da dove provengono i materiali, lavorazione dei materiali, tipi di prodotto, proprietà dei materiali. Da dove provengono i materiali? I materiali si ricavano da materie prime di origine biologica, se derivano da animali o piante, come la lana, oppure minerale, se estratte dal sottosuolo, come il ferro. Per esempio, il legname è una materia prima di origine biologica, mentre le rocce sono materie prime di origine minerale. Materie prime rinnovabili e non rinnovabili. Le materie prime rinnovabili si formano in tempi brevi rispetto alla vita dell'uomo. Le materie prime non rinnovabili si formano in tempi lunghissimi. Un esempio di materia prima rinnovabile è la foglia di basilico, che, quando si coglie, ricresce. Un esempio di materia prima non rinnovabile è la gomma, che, quando si usa, finisce per sempre. Lavorazione dei materiali. La lavorazione dei materiali può essere per formatura, come lo stampaggio, che modifica il materiale a caldo o a freddo. Qui vediamo un'immagine che esemplifica il procedimento di un tipo di stampaggio. Può essere per sottrazione, come la tornitura, che toglie parte del materiale con una macchina utensile, come, ad esempio, il trappano. E qui vediamo l'immagine della tornitura. Oppure la lavorazione dei materiali può essere per addizione, come la saldatura, che unisce due pezzi per ottenere un unico pezzo. E qui vediamo un esempio di saldatura. Tipi di prodotto. Dalla lavorazione dei materiali si ottengono prodotti semilavorati, come le barre di acciaio. Prodotti componenti, come la catena della bicicletta. Infine, prodotti finiti, finali, come i bicchieri di vetro. Ovviamente semilavorati vuol dire prodotti che sono stati lavorati ma necessitano di un'ulteriore fase di lavorazione. Componenti sono la parte di un tutto. Prodotti finali sono prodotti belle finiti. Le proprietà dei materiali. I materiali hanno proprietà fisiche e meccaniche. Le proprietà fisiche si riferiscono al comportamento del materiale quando variano le condizioni fisiche, come, ad esempio, la temperatura, mentre le proprietà meccaniche si riferiscono al comportamento del materiale quando è sottoposto a delle forze esterne. Vediamo le proprietà fisiche. I materiali hanno un aspetto superficiale, vale a dire un modo in cui ci appaiono esteriormente. Hanno un peso specifico, vale a dire un peso in rapporto al volume, quindi allo spazio che occupano. Idrofilia o igroscopicità, vale a dire, detto in parole povere, la capacità più o meno elevata di assorbire dei liquidi. L'inalterabilità, che è la capacità più o meno elevata di registrare la corrosione. La conduttività, cioè la capacità di trasportare il calore o l'elettricità. Infine hanno anche la dilatazione termica, cioè la capacità di aumentare di dimensioni, di dilatarsi, quando vengono riscaldati. E vedete lì l'esempio dell'anello di grave sande, che è un esperimento scientifico che dimostra come una sfera di ferro aumenta di volume se è riscaldata. Passiamo alle proprietà meccaniche dei materiali. I materiali hanno la durezza, vale a dire, non si lasciano facilmente penetrare da una punta. La tenacità, cioè non si rompono facilmente quando urtati. Infine hanno la resistenza, cioè riescono a resistere a degli sforzi o a delle forze che vengono applicate su di loro. Abbiamo concluso. Questa è una mappa concettuale che riassume tutte le informazioni, i concetti del capitolo. Buono studio!